ai bambini come si cammina in montagna, come si va in montagna. Quindi logicamente io nella cosa ho messo anche disponibilità di qualche persona di voi per metterli magari nei bivi quando sarà il momento da fare la gare in montagna. Cosa che siamo sui 4 chilometri, 5 chilometri in massimo quindi i bivi non sono alle altezze impossibili. L'altra cosa vi domando se per piacere dovete dare appena possibile una collaborazione nel senso che abbiamo tante attività da portare avanti perché noi diventiamo vecchi però bisognerebbe continuare perché la cosa nostra è che la FIE continui sia con le scuole sia con le altre attività. Vedi la marcia del trial, vedi la rigantoca, vedi tante altre cose. Non ve ne parlo tutt'assieme adesso perché purtroppo uno che all'esterno non non ve ne parlo tutt'assieme. No. No. No.